Anche se a distanza, Vilma Goik e l'ex marito Edoardo Vianello continuano a comunicare. La cantante al GFV, ha parlato dei tradimenti subiti e lui ha replicato dalle pagine del suo libro, nel quale ha rivelato che la Goik molti anni fa si era innamorata di un altro e che anche per questo sarebbe finito il loro matrimonio. La Vippona però in una recente puntata del Grande Fratello Vippa ha smentito e ha dichiarato che, questo uomo, non è mai esistito e che Edoardo Vianello lo sapeva benissimo. Edoardo Vianello sull'amicizia speciale tra Vilma e Daniele Dal Moro. Mi hanno detto che ha perso la testa per un giovane. Nella casa di Cinecittà la Goik ha stretto un legame molto forte con Daniele Dal Moro e ha anche dichiarato di provare qualcosa per lui. Il cantante dei Vattussi ha saputo della chimica artistica dell'ex moglie con il bel veronese e ha detto la sua sulle pagine di Di Più TV. Edoardo Vianello si è detto felice per Vilma e ha aggiunto che la Gieffina sarebbe sempre stata sensibile al fascino maschile anche quando era sposata con lei. Questa si che è una frecciatina. Se ho saputo di lei e Daniele? Si me lo hanno detto. Al Grande Fratello Vip la mia ex moglie ha perso la testa per un ragazzo molto più giovane di lei. E le dirò. Sono felice che abbia voltato pagina. Che ora sia, distratta, da questo amore giovanile. Contento che sia felice dopo avere tanto sofferto nella sua vita. E sono felice anche per me. Lo ammetto. Perché per anni sono stato etichettato come uno sciupa femmine. Ma anche Vilma, come potete vedere, non è da meno ed è molto sensibile al fascino maschile. Ha concluso il cantautore persino durante il nostro matrimonio lo è stata a dire la verità. In realtà Vilma Goci ha giurato di essere sempre stata federe al suo ex marito. Grazie mille. 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 Grazie a tutti.